10 km e poi dove andiamo? E adesso torniamo a casa perchè Matteo in Alecco non ce la fa No, ce la faccio E' anche un po' caro, non ce la fai E' già la seconda tentativa No, ce la faccio benissimo Comunque abbiamo mangiato il gelato qua Gelato è buono Facciamo la prova di upload Facebook Si esatto Sto vorremmo mangiare la pizza qua Qualità alta, ma sai che forse vuole?